ciao oggi volevo fare la besciamella allora iniziamo subito con la preparazione quindi la prima cosa che ci chiede di mettere all'interno del boccale mezzo litro di latte quindi vi ricordo sempre che siete in grado di poter o diminuire la dose o di raddoppiarla ok andando avanti ci chiederà 40 grammi di burro a pezzetti andiamo ancora un altro pochino andiamo se ci siamo perfetto andando avanti vuole un pochino di farina bianca quindi circa 50 grammi ok perfetto mezzo cucchiaino di sale eccolo qui e due pizzichi di noce moscata che li metteremo sul cucchiaino per non mandarle giù troppa le pizzichi eccoli forse sono più che sufficienti ok andiamo avanti e qui ho messo quell'altra quindi la noce moscata non vado a grattugiarla dell'altra quindi basta questa andiamo a cucinare questa besciamella per 7 minuti a 90 gradi velocità 4 facciamo click su avanti e quindi la versiamo direttamente in una ciotola e la utilizziamo come meglio ci serve quindi in questo caso io la utilizzerò per fare una bella pasta al forno e quindi Grazie a tutti.